Eric Lotto e Luisa Menegaz, professionisti d'aiuto in grado di interpretare i linguaggi emotivi e le dinamiche sistemiche dell'uomo per aiutarlo a perseguire il benessere emotivo, hanno organizzato in collaborazione con il Comune di Chies d'Alpago e la Comunanza delle Regole dell'Alpago, un seminario formativo dedicato alla ricerca interiore che prenderà il via il 9 maggio. Life in Tour, Goditi il viaggio, è stato presentato alcuni giorni fa attraverso un workshop gratuito di introduzione. Questa sera abbiamo dato una spiegazione di quello che trattiamo, abbiamo fatto un workshop dimostrativo e prossimamente partiamo appunto con i nostri appuntamenti che si terranno il 9 maggio, il 15 maggio, il 6 giugno e il 13 giugno alla sala funzionale di Chies d'Alpago. All'interno di questo workshop di Life in Tour appunto siamo andati a elencare quelle che sono le principali aree distoniche nella vita di ogni essere umano e dopodiché abbiamo proceduto con illustrare il programma dei quattro incontri. Il primo viaggio perché appunto è un Life in Tour, quindi è un viaggio nella vita, è un viaggio nel Mediterraneo dove si va ad affrontare l'aspetto della famiglia d'origine, il secondo incontro invece come potete vedere l'area sentimentale affettiva e il terzo incontro invece si svolge sull'area sessuale, passionale e donistica con un viaggio nei Caraibi ed infine andiamo all'autorealizzazione personale e anche professionale. Tutto questo in gruppo. Perché il gruppo permette appunto di aumentare la dinamica e l'efficacia del riequilibrio che andiamo a fare appunto. Collegandosi e parlando con l'emotività andiamo a creare una vera e propria egregora che rifornia l'intera forza pensiero di tutto il gruppo.